Questa è la strada statale che collega Scheggia con Ponte Riccioli. Qui, giovedì 15, intorno tra le 18 e le 19, è letteralmente franata questa parete rocciosa. Attualmente tecnici ANAS e altri tecnici specializzati provenienti da Belluno stanno valutando la situazione. 6.000 metri cubi di roccia e terra. Ecco quello che giovedì 15 settembre, intorno alle ore 19, è piombato sulla Flaminia. Lungo il tratto che collega Umbria e Marche, poco dopo il valico di Scheggia, altri metri cubi, secondi rilievi dei rocciatori bellunesi al lavoro per conto di ANAS, sono ancora su, ma pericolanti una nuova pioggia abbondante potrebbe allentare il terreno ulteriormente. Le reti, poste a protezione, hanno contenuto solo in parte il peso della roccia, sono state divelte da massi di tali dimensioni che sarebbe stato difficile tenere. La strada è di fatto chiusa, interrotta nella zona del valico da un lato e nella frazione di Buotano più a valle. Le dieci famiglie che abitano in questa zona hanno a disposizione solo la strada della Contessa per poter andare a Scheggia. Matteo, il tecnico ANAS presente sul posto, ipotizza di poter riaprire almeno una corsia entro 15 giorni, meteo permettendo. Più a valle le frane non mancano, ma sono di minore entità e tutte fatte di terra più che roccia. Si scende verso Ponte Riccioli, lì dove il torrente Scheggia confluisce nel Burano. Questa è la prima frazione marchigiana del comune di Cantiano e i segni della devastazione sono importanti. Questo è Ponte Riccioli dove ancora oggi si scava, si toglie fango, si cerca di recuperare quello che è possibile. Le persone hanno poca voglia di parlare. Guardate, questo è il torrente di Scheggia, il torrente Scheggia che in fondo confluisce dentro il Burano. Il giorno della piena l'acqua è arrivata esattamente dove vedete, sul muro di quella casa. Mentre a destra qui c'era un laboratorio artigianale. La piena l'ha completamente sventrato, ha portato via tutto quello che c'era. Sono rimasti soltanto gli oggetti più pesanti che la furia dell'acqua non è riuscita a trascinare. Qui sono al lavoro squadre con ruspe, idrovore, pale e vengono ripescate dal fiume le auto che la furia dell'acqua ha portato via. Sono praticamente distrutte. Il fango che le ha invase ha danneggiato irribendiabilmente tutto. Alcuni le auto non le hanno proprio ritrovate. Una signora ci racconta che la sua ad oggi è introvabile. Chi da queste parti era a piano terra delle abitazioni si è salvato salendo al primo piano e guardando dal terrazzo il fiume che aveva invaso l'intero paese. Sotto il sole di oggi sembra impossibile credere che l'acqua del torrente Scheggia, poco più che un fiumiciatolo stamattina, impossibilitata ad entrare nel Burano già in piena, abbia raggiunto giovedì notte almeno 7 metri di altezza. Si risale verso il Buranese, al laghetto lungo la statale Contessa. Sono arrivati i volontari della misericordia dalla Puglia. Sono da queste parti. Da sabato scorso stanno svuotando il lago pieno di fango. Impiegheranno tutta la giornata. Non possono parlare al microfono, non sono autorizzati, ma dai volti si comprende che di lavoro ne hanno già fatto tanto. Si sale ancora lì dove venerdì mattina avevamo lasciato il ristoratore Gianluca del ristorante San Bartolomeo e la signora Stefania, proprietaria del bar. Il bar ha riaperto un segnale di speranza pur con i cartoni in terra per provare a tenere pulito il pavimento visto il fango fuori. Sotto si spala. Qui c'è stato un sopralluogo dei tecnici comunali. Si attendono i mezzi pubblici. Per il momento si fa tutto in casa, lavando con un tubo ciò che resta degli oggetti trascinati dalla piena con la speranza commovente a guardarsi che possano funzionare ancora. A spalare sono amici, parenti, vicini di casa. Grazie e amici.